di una lunga serie di scioperi. Tra le prospettive di conseguenza c'è anche l'inizio di un'attività di agitazione del settore che ci preoccupa ovviamente perché gli scioperi fanno male le imprese, per cui li subiremo cercando quelli che sono gli accorgimenti necessari per limitarne i danni, ma noi ci aspettiamo un atteggiamento responsabile da parte delle organizzazioni sindacali, con la disdetta non finisce una storia di relazioni sindacali importate anche a tanti valori. Grazie.